È un'amica, credo. Un'amica, eh? Sei amica del Capo delle Luce. Quanti anni hai? 12. Conoscevo mia mamma e... si è presa cura di me. E ho 14 anni, non che c'entri qualcosa. E i tuoi genitori? Dove sono tutti i genitori? Se ne sono andati tanto tempo fa. Così, invece di restare a scuola, hai deciso di scappare e unirti alle Luce. Giusto? Senti, non ti dirò perché mi stai facendo scappare, se è ciò che vuoi sapere. Sai qual è la cosa migliore del mio lavoro? Che non devo sapere il perché. La verità, non mi frega niente di quello che vuoi fare. Ottimo. Bene. La verità r рублей sarà DAGGIVERAQUE. No, no. No, quello che vuoi fare. Eccoci qui. Che stai facendo? Mi ammazzo il tempo. Ah, e io cosa dovrei fare? Sono certo che qualcosa ti inventerei. Il tuo orologio è rotto. Ti lamenti nel sonno? Odio i brutti sogni. Sì, anch'io. Sai, non sono mai stata così vicina all'esterno. Io intendo guarda com'è buio. La fuori non può essere peggio. Non credi? Che diavolo vogliono da te le luci? Ehi, scusate, ci ho messo tanto. Fuori è pieno di soldati. Come sta, Marlene? Se la caverà. Ho visto la roba là fuori, è tanta. Siete sicuri? Sì. Andiamo. Non è strano che ci usino per il loro contrabbanto. Marlene voleva farlo da sola. Non eravamo la loro prima scelta e nemmeno la seconda. Ha perso molti uomini. Non aveva scelto. Già, spero ci sia qualcuno vivo per pagarci. Troveremo qualcuno.